Ciao Nico, la partita è finita, abbiamo portato bene, un bel 2-0 e niente, volevo ringraziare te, forti infissi per i biglietti e tutte le persone che mi hanno votato per il gol anche perché se dovevi aspettare il gol dei Lanzi, troppo dobbiamo aspettare e niente, troppo facile grazie ancora e ciao